Ciao a tutti e bentornati sul canale. Riesco finalmente a tornare online con i miei video e oggi si parte con le video recensioni. Ho già registrato alcune video ricette e le trovate ovviamente qui su. Alla fine dell'ultimo video che ho postato, non ricordo più nemmeno quando, comunque prima dell'estate, nel video dell'all dei saldi, vi avevo promesso che vi facevo delle video recensioni su prodotti che sto testando ormai da tantissimo tempo e con cui mi sto trovando benissimo. E sto parlando delle BB cream di L'Oreal. Ve ne mostro due perché in realtà questa, che è la crema originale, di questa è cambiato il packaging e adesso è così, ma sono lo stesso identico prodotto. Eccoli qua. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a leggere di che cosa stiamo parlando. Leggere da uno dall'altro è la stessa cosa perché come dicevo sono praticamente identiche, cambia soltanto la confezione. L'Oreal Paris Nude Magic BB Cream, perfezionatore di pelle universale, 5 in 1, per ricreare la texture e la luminosità di una pelle nuda perfetta. Se non fosse per il resto di cose che ho in faccia, secondo me e a mio parere non si noterebbe che ho una BB cream, una crema. È una crema leggermente colorata, completamente bianca, che però al contatto con la pelle diventa appunto colorata. Ci sono vari colori, se non erro tre, e ho scelto il colorito medio, quindi per una pelle un po' più abbronzata perché la mia carnagione anche d'inverno, perché questa la utilizzo anche d'inverno, non è mai completamente bianca, chiara. La mia carnagione è comunque un po' olivastra, un po' abbronzata. E poi sottodice tecnologia color o smooth, quindi prende il colore della pelle sottostante in un certo senso. Qui è scritto veramente in piccolissimo, cerchiamo di leggere. Caratteristiche. Oltre a un tratamento viso, più di un fondotinta, scopri la magia 5 in 1 della BB cream, un prodotto perfezionatore universale per 5 dimensioni di una pelle nuda perfetta. Incarnato senza imperfezioni, consistenza della pelle omogenea, pura luminosità, coprenza uniforme. 24 ore di idratazione e infatti questa è una cosa fondamentale perché alle volte alcune creme seccano la pelle, alcuni fondotinta seccano la pelle, mentre questo qui è veramente idratante. La pelle dopo che si è rimosso il trucco, che si è rimossa la BB cream, la pelle rimane bella idratata e morbida. La magia. Pigmenti microincapsulati in una crema dalla texture lentigginosa, che si trasforma in un fondotinta a contatto con la pelle, per donare un aspetto pelle nuda perfetta. È una sensazione di leggerezza. Coprenza molto dosabile, da bassa a media. Io mi ci sono trovata bene, infatti ho preso il mio flacconcino l'anno scorso, l'inverno scorso. Non è ancora finito perché comunque d'estate non lo utilizzo se non quando registro, ma anche no, alle volte non lo uso. La confezione contiene 30 ml di prodotto e dall'apertura dicono che va consumato entro 12 mesi. Ne ho comprato un altro, ho comprato questo con nuovo packaging perché l'ho trovato in offerta. Infatti questo qui costava 9,90 e l'ho pagato 9,90 l'anno scorso. Mentre questo nuovo qui non è un prezzo, diciamo, del momento. L'ho pagato 7,50 euro. Conoscendo il prodotto, ovviamente l'ho comprato come scorta. Il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che soprattutto sia stato utile. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e seguite le indicazioni che sono qui sotto. Mi raccomando, trovate i link a tutti i miei canali social giù nell'info box. Ciao e alla prossima!